Mandatele entrambi a processo. Questa è la richiesta della procura del Tribunale dei minori di Firenze che ha chiuso l'inchiesta e chiesto il rinvio a giudizio per due giovanissimi coinvolti nella triste vicenda dei presunti abusi sessuali su una bambina di 10 anni all'interno della casa famiglia di Vitiano. Uno dovrà rispondere di tentata violenza sessuale l'altro invece di violenza privata. Il primo, un quindicenne infatti, avrebbe spogliato la vittima in camera da letto tentando un rapporto sessuale che alla fine non si sarebbe consumato. L'altro invece, un giovane di 16 anni intercettato con delle cimici, si sarebbe reso responsabile di un'aggressione ma non a sfondo sessuale. La procura di Arezzo intanto sta indagando su responsabili ed operatori della comunità con l'ipotesi di reato e di omessa vigilanza. A far emergere questa drammatica vicenda a un blitz della polizia municipale le indagini avevano preso avvio da una confidenza della stessa bambina, poi sentita anche in incidente probatorio. I familiari della piccola adesso hanno chiesto anche un risarcimento alla ASL.